Un'altra meravigliosa giornata a New York City. Il sole splende, gli uccellini cantano e Captain America sta studiando un barco di distruzione con il mio progione parlante preferito nella galassia. Un giorno di questi devo scoprire cos'è un progione ed è meglio che sia grandioso. Star, grazie di essere qui. Lo shield riporta comportamenti pericolosi di un paio di dotati e collocchi. Prendevo una pausa dai guardiani della galassia quando ho sentito che il mio socio Grutta affondava i piedi dalle vostre parti. E non è un individuo avanzato. Prenderò no. Qual è l'altro? Io sono Groot! Oh, amico! Forse l'atmosfera di questo pianeta sdolcinato ti ha fatto qualcosa, ma qualunque cosa tu abbia detto non ha davvero senso. Rocket, Iron Man, so che sono alleati, ma dobbiamo fermare Groot e Hulk prima che qualcuno si faccia male. Lascia Hulk a Hulk Battle! Si faceva male, vero? Oh, un tiro da tre punti! Io sono... Concentra ogni sforzo su Groot! Ora si è santo. Io sono Groot. Non è la tua giornata. Io sono Groot. Io sono Groot. Gettone extra power in arrivo. Basta da me. Captain Marvel, al suo servizio. Cosa credi di farlo? In arrivo! Io sono Groot! Hulk Buster non ha potuto contenere Hulk, quindi preparati a combattere. Sconsa di bannere il mingerlino! E' Hulk che comanda ora! Raddoppiamo la lotta! Io sono Groot. Brute. Andava fatta. Meglio che tu stia in guardia. Hai ingaggiato una bella battaglia. Un carrabbiato ora! Non fa male! Parti da parte. Come allucinazione! Abbiamo davvero appena annientato due robot finti? Bel lavoro. Siamo arrivati in tempo per sistemare il tuo chaos. Di nuovo. Agente Ilf, qual è l'intel più recente dello S.H.I.E.L.D.? Da dove vengono questi robot? Un esperto sta esaminando i resti mentre parliamo. Esperto? Ok. Sapevo di essere bravo in qualcosa. Ciao, gente. Ho appena dato un'occhiata a quei robot. Chi è questo? Ciao, piccolo. Il nome è Antman. Per favore, non mordermi. Cosa hai scoperto? Quei robot avevano parti in vibranio. Strano, no? Vibranio? Può voler dire solo una cosa. Black Panther a Maria Hill. Richiedo aiuto da tutti gli eroi disponibili. Il Wakanda è sotto l'assedio di quel demonio al gardiano di Loki. Avrei dovuto sapere che c'era dietro il re della malignità. Benvenuto al centro formazione SHIELD. Sei stato scelto per un rigoroso programma di addestramento. Sarai onorato. Pochi selezionati sono all'altezza degli alti standard dello SHIELD. Ora incontriamo i tuoi compagni di allenamento. Un po' divisi conosciuti per mostrarti i segreti e le abilità che servono a ogni eroe. Direttore Fury, è sempre un onore. Ok, vediamo se hai la stoffa per lo SHIELD. Cominciamo. Pronto a divertirti un po'? Lo SHIELD ha segnato i tuoi nemici con un indicatore rosso sopra le loro teste. Lo SHIELD è che indicherà a te i tuoi alleati con un segno blu. Ora al combattimento. Il tuo attacco base è una combo di tre colpi. Davvero? Mi stai sfidando? Vuoi dimostrare quanto sei bravo? Non è la tua giornata. Cos'è successo in un attimo? Vittoria! Quando sei sotto attacco, blocca per evitare danni. Bel colpo, ma non ti piacerà quello che viene dopo? No, non fai... Regalino! Basta davvero! Prendi questo. Oh, è stato magnifico! Chi è il prossimo? Coraggio! Se il tuo avversario blocca, puoi rompere la difesa con una buona presa. Come va? Ehi, ehi, sono io o Kai? Qual è il problema? È il mio lavoro. Se sei troppo lontano dall'avversario, ci sono altre opzioni. È così che si fa. Attento a dove punti quella cosa. Non male! Punto per le stelle estrici. Non male! Facciamolo di nuovo. Non fallirò. Se raccogli un oggetto, puoi lanciarlo contro il tuo avversario. È un onore essere alla tua presenza. Sei un folle! Osi colpire Thor? Mostro! Bene, tutto ci risolto! Ora, impariamo come caricare attacchi speciali. Rimanere fermo è sprecare un guerriero. Avvicinati al tuo avversario e scatena il tuo attacco speciale. In arrivo! Come oggi! Ogni eroe ha un attacco speciale e unico. Non esitare a sperimentarli. La vendetta sarà mia. Per la barba, Gionino! Tutti credivietti. Bella lotta. Mi sento come se avessi appena festeggiato. Non strafare troppo. Tieni d'occhio la tua salute. Non ringrazio. Ed-Man al tuo servizio. È ora di un faccia a faccia con un combattente singolo. Sta arrivando il tuo peggior incubo! Ehi, ma... Ehi, ma... Me lo meritavo. Che problema ha? Prendi questo! E questo! È così che andrà? Ehi, spazio personale! Andiamo! Una passeggiata. Batti da parte. Congratulazioni! Con abilità come queste, forse un giorno sostituirai il direttore Fury. Non è divertente! Ora sei pronto per qualunque modulo di addestramento avanzato dello shield. Allontanati se vuoi. Quando tornerai, sarai sempre il benvenuto. Torna quando vuoi. Siamo sempre pronti per aiutarti a rifinire le tue incredibili abilità. Sono riuscito a far sì che gran parte del convoglio non scappasse con il carico di planio, ma rimane ancora un altro veicolo. È abbastanza largo per anterrarci. Sbrigatevi, eroi! Sembra che non si arrenderanno senza combattere. Diamogliene modo. Ehi, non vorrai farmi arrabbiare? Su, zè! Io dominerò! Io dominerò! Lo vedo a chi la notte. Hai ingaggiato una bella battaglia. Ora mi hai stancato. Gettone extra power in arrivo. Prova a prendere le misure. Ehi tu, avvento! Meglio che tu stia in guardia. Abbiamo intercettato qualcosa diretto verso il trasporto. Tieni alta la guardia. Sembra che ci sia una fermata inaspettata sull'orario. Metti la cintura! Si spera che sia un piccolo intoppo. Il potere della Pantera è un mio vantaggio. In arrivo! Senti la collera di un re! Vol! Gettone extra power in arrivo. L'hubber di difesa è attivo. Fanne buon uso. Quello funzionerà. Indietro scenerà. Prova a prendere le misure. Ehi tu, avvento! Questa battaglia finisce qui. Meglio che tu stia in guardia. Tieni duro. Confermiamo che il vero Black Panther è in arrivo per aiutare. E' ora di smetterla. Il Wakanda è uno stato sovrano, non un parco giochi. Puoi riavere il tuo prezioso regno, Black Panther. Ha soddisfatto i miei bisogni. Come osa depredare la mia casa? Dove sta portando il vibranio? Non conosco la motivazione. Ma le mie analisi suggeriscono che ha portato il tuo carico sulla Luna. Maria, stai ascoltando? Perché Loki dovrebbe andare sulla Luna? Sei una base segreta dello Schiff. Abbiamo una tecnologia per il teletrasporto. Buona fortuna a farlo funzionare senza il mio genio autorizzato Stark. Tu hai i tuoi segreti, non i nostri. Rettete i vostri occhiali e cappelli, signori. Fury, felice di vederti. Qualche segno di Loki? Basta! Dopo di te. Sei fortunato, non ti ho colpito. Sono pronto all'azione. Non è il direttore Fury. È un altro duplicato robot di Loki. Cosa credi di fare? Meglio che inizi a correre. Quel falso Fury ha convocato rinforzi. Preparati! La sei cercata. Natassa! Ci incontriamo di nuovo. Guardi, alla foto. Questo ha segnato il tuo destino. Riprova. Gettone extra power consegnato! Gettone extra power, Winter Soldier. È stata una pessima idea. Puoi provarci ancora? Riprova. Vedi che succede. Il tuo tempo è scaduto. L'impostore si è ritirato, ma sicuramente non ha finito in questa battaglia. Chi è stato? Gettone extra power in arrivo. Questa parte è solo... Vai di corsa! La stanza sta per crollare. Non ci arrenderemo. Quel duplicato robot del direttore Fury sta convocando rinforzi. Preparati per un altro avversario. Ehi boss, cos'hai per me? Stai! Sai come riparare questo caos? In arrivo! Te ne sentirà. Non ci arrenderemo. Sì, mi ha sbagliato. Calma di... Meglio che tu sia in guardia. È stato imbarazzante. Neanche la versione robot di Nick si arrende mai in una missione. Preparati ad affrontarlo ancora. Riesco già ad assaporare la vittoria. Se non siete con noi, siete contro di noi. Non risulterà in alcun documento. Mi avete sentito? Chi è stato? In arrivo! Visione, dove ha portato il vibranio Loki? I computer indicano una destinazione sui punti più estremi della galassia. La testa fluttuante di un essere celestiale noto come... Ovunque. Ora è ufficialmente un incidente intergalattico. A chi serve tutto quel vibranio nello spazio più profondo e perché Loki fa da fattorino? Forse è una trappola, ma dobbiamo andare. Loki ha tentato di bloccare il modulo del teletrasporto, ma l'ho riportato alla massima potenza. Avete appena prenotato un biglietto di sola andata per il centro di ovunque. Letteralmente. Ronald, spero tu sia pronto a far lavorare quel martello per me, al contrario di qualcun altro. Abbiamo seguito Loki fino a qui. Scopriamo se si tratta dell'originale o di un altro duplicato robot. Meriti una punizione. Sei dalla parte sbagliata, amico. Fallirai prima di me. Così che andrà... Ho annientato creatura più grande di te. Cosa? Gettone extra power in arrivo. Cosa credi di fare? Ho del lavoro da fare. Basta davvero? Valedetto! Non posso perdere. Non provare a farlo. Perderai sempre. Il tuo tempo è scaduto. Ora che è in baglia. Meglio che tu stia in guardia. Ora che io per te. Gettone extra power consegnato. Il nemico è fuori portata. Rispondi ai colpi o blocca i colpi in arrivo. Non puoi raggiungerlo in questo stato. Trova qualcosa qui intorno che puoi usare contro di lui. Affrontami, toglie! Ah, eccoci qui. Iron Patriot in arrivo. Sembra che tu debba imparare le buone maniere. Basta! Non puoi amare, no. Non è finito. Stai attento. Ti abbiamo in pugno, pazzo di un robot. Levati di dosso, bestia. Non sono un robot. È proprio quello che direbbe un robot. Basta così, Rocket. Loki, prima di reprimerti e mandarti alla struttura di contenimento dello shield, potresti confessare. Per chi lavori, a chi serve così tanto vivere. Loki, che inganno è questo? Loki è stato trasportato ad Asgard. Forse è lì che troveremo anche il vibranio rubato dal Wakanda. Sono felice che tu sia in questa battaglia, Thor. Andiamo. Considera l'ho fatto. Credo che abbiamo trovato il vibranio perduto di Black Panther. Quel mucchio di Rotami distruggerà Asgard. Dobbiamo fermarlo. Ma servirà un attacco di sogno. Passa avanti a te, amico peloso. Ci vediamo là. È più grande di quanto pensassi. Eroi, allarme rosso. Dobbiamo distruggere Ultron dall'interno. Aha, quello è il mio. Ho srotolato il tappeto rosso. Voi, deboli invasori, non potete niente contro la potenza di Ultron. Ultron non si abbatterà senza una lotta. Stai attento alle sue difese automatiche. Perché dovrei sporcarmi le mani? Ho cose più grandi da fare. Ti distruggerò per questo. Stark ha caricato i diagrammi di Ultron. Distruggi i generatori per accedere al cuore di Ultron. Cosa? Che fate? Basta! I miei meccanismi di difesa interna finiranno presto con voi. Io non tollererò le tue azioni. Tu mi eriti. Non sei il migliore di quei disgustosi umani. Questo è mediocro. Siete arrivati fino a qui. Ma non vedrò come. Ho previsto il mio inevitabile successo. Il cuore di Ultron è irraggiungibile. L'enorme raggio laser non ti è amico. Attento! È ora il momento di colpire. Ultron è vulnerabile. Io ti eri libero. Hai ingaggiato una bella battaglia. Forza! Colpiscilo! È l'unico modo! Così attenziale! In arrivo! Chi distruggerò per questo? Questa battaglia finisce qui. Non mi hai lasciato altra scelta. Ora sta a te! Colpiscilo! Hai ingaggiato una bella battaglia. Hai provato di essere un simico? Ora si esagera. Forza! Colpiscilo! È l'unico modo! La gemma dell'infinito di Odino sarà mia. Oh sì, sarà mia. Sta cercando le gemme dell'infinito nascoste ad Asgard. Ultron va fermato. Potere energetico di Dark Oak in gioco! Distruggi i generatori! È l'unico modo per indebolire Ultron! Che problema! Ho trovato il punto debole. Sei dalla parte sbagliata. Sei migliore di quei disgustosi umani. Gettone extra power in arrivo! Non ti credi di essere. Loki, pazzo! Questa è colpa tua! La tua sconfitta è logica. Gettone extra power in cuba cosmico! Ossi affrezzare Ultron? No! No! Ultron è sconfitto e la gemma dell'infinito è al sicuro nella cassaforte di Odino. Aspetta che metta le mani su Loki. Lo prendo dalle corna, lo faccio a pezzi come un... Loki non è più una minaccia. Ultron ha finito con lui. L'ha mandato nella segreta più buia e profonda di Asgard. Questo cosa significa? Lasciatemi! Come se nei nove regni esistesse una prigione e che possa contenermi? È quello che succede quando scendi a patti con un delinquente. Non fraintendermi, è stato uno spasso. Ma non credo che Ultron sapesse cosa fare sin dal principio con una gemma dell'infinito. Io invece sì. è stata un attenzione. Grazie a tutti.